Il sistema politico che ieri era bloccato, avevamo una democrazia bloccata perché la democrazia cristiana doveva vincere per forza, se non vinceva la democrazia cristiana vinceva il partito Comunica e il comunismo entrava nelle nostre istituzioni. Oggi c'è un sistema politico che è insufficiente, che è infelice, che è incompleto, che è inadeguato, che non risponde all'attesa della gente se in lista si mette la figura di una bella ragazza. Non è così che si danno le risposte alla gente, alla gente si danno risposte giuste se in lista si mette una persona che comprende, conosce quali sono i problemi di un territorio e va ad occupare un posto nelle istituzioni per tentare di dare una risposta a quel territorio. Ecco perché quel vecchietto di 83 anni lo piangiamo tutti perché tutti abbiamo questa responsabilità, non soltanto quei due balorni che lo hanno ucciso.